Ciao a tutti! Nel video di oggi andremo a sbustare questa collezione con Pikachu V-Unione. È la prima V-Union che compro e niente, spero di trovare qualcosa di carino. Questa è la confezione Gran Festa di Pikachu V-Unione e niente, provo a leggere un po' cosa c'è scritto dietro. Allora, dovrebbe contenere 4 carte promozionali olografiche che formano un Pikachu V-Unione, una carta gigante Pikachu V-Unione, un'utile carta aiuto della professoressa Magnolia, 4 buste da 4 carte dell'espansione Gran Festa, 2 buste di espansione aggiuntive e una carta codice e niente, 4 carte promozionali e un Pikachu V-Unione gigante. Festeggia con una nuova ed entusiasmante sfida, Pikachu V-Unione, un solo potente Pokémon diviso in 4 carte. Metti letteralmente insieme questo fuoriclasse recuperandolo dalla pila degli scarti, magari con l'aiuto della professoressa Magnolia. Una volta in gioco sfonderà 4 incredibili attacchi e una quantità impressionante di PS. Questa collezione speciale include anche una carta gigante di Pikachu V-Unione in un'unica illustrazione, oltre a tante buste dell'espansione Gran Festa. Divertiti a mettere insieme i pezzi. Eccola qui, davvero molto carina con questo Pikachu. E vediamo. So che dovrebbero esserci 20 Pikachu, ognuno di un illustratore diverso. E' davvero carina come idea. Poi per il 25esimo anniversario ci sta qualcosa dedicato a Pikachu, che comunque è il Pokémon iconico, in assoluto. E niente. E' fatta col giallo, sempre plastica a go-go. Ce la farò. Vi tiro fuori queste carte. Ecco qui la carta speciale di Magnolia. Ok, iniziamo da Magnolia. Eccola qui, professoressa Magnolia. Cerca nel tuo mazzo fino a due carte e scartale. Poi rimischia le carte del tuo mazzo. Carina. Poi abbiamo le 4V. Questo è l'angolo in alto a destra. E ne abbiamo 3,6 di Pikachu. Poi questo dovrebbe essere l'angolo in basso a destra. Che ne ha 7. Quindi stiamo a 13. Poi alto a sinistra. E siamo a 19. Quindi ne sono di più di 20, scusate. E l'angolo in basso a sinistra. E arriviamo a 25 Pikachu. Davvero, davvero carina come carta. E questo è il codice. Dopo le slivo tutte. Eccoli qui. Poi c'è la carta gigante. Pikachu V Unione. Davvero, davvero bella. Aumento Unione. Shock Fulminante. Gli attacchi stanno qui in alto. Disconnessione. Energia Collettiva. Ogni carta giustamente ha un attacco. Eccoli qui. Bella. Una carta nuova. Ed è molto carina. Anche qui abbiamo, come per Dark Silvion, 4 bustine di Gran Festa. E due di altre espansioni. In questo caso abbiamo trovato sempre Fragore Ribelle. E Voltaggio Sfolgorante. Quindi gli stessi due dell'altra. Quindi non so se è una coincidenza. O escono sempre gli stessi. Fatemi sapere voi quali set avete trovato in aggiunta Gran Festa. E niente, se il video vi sta piacendo, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Così per aiutare la crescita del canale e portare nuovi contenuti. Inizierei, come al solito, da queste due. Partiamo questa volta da Fragore Ribelle. Vediamo se saremo fortunati. Codice. E Tricco. Uno, due, tre, quattro. E diciamo Elettro. Allora, Energia Lotta. Un Heliolisk. Un Double Double Blade. Un Heracloss. Un Nozepass. Un Wingull. Un Koffing. Un Bronzor. Un Toxel. La Reverse. E Sonia. E infine abbiamo un Semistoad. E niente. Questo era Fragore Ribelle. Un set che ho sbustato parecchio e che mi è piaciuto. Poi vediamo Voltaggio Sfolgorante se troviamo il Pikachu V-Max. Visto che è il set di Pikachu, chissà. Tra l'altro quello Hyper non l'ho ancora mai trovato. Codice per voi. Uno, due, tre, quattro. E vediamo. Diciamo Elettro anche qui. Eeeh. Speriamo bene. Energia Elettro. Un Metang. Un Poppy. Juwot. Un Chutol. Scoopet. Trabish. Un Eevee. Non me lo ricordavo questo artwork di Eevee. Molto carino. Uno Skiddo. La Reverse. E un Oshawott. E infine abbiamo un Foretress. E niente. Questo era Voltaggio Sfolgorante. E vediamo cosa troviamo in Gran Festa. Troveremo il Charizard, l'Umbreon e il Mew. Diciamo appunto a quelli tre. Anche il Magikarp mi piacerebbe tanto. Eeeh. Non so. Vediamo. Nei vari gruppi Facebook vedo che hanno trovato un sacco di belle carte. Vediamo se anche io sarò fortunato. E iniziamo dal primo pack. Ed abbiamo un Grodon. Come vedete il set base è di 25 carte. Quindi dovrebbe essere abbastanza semplice da terminare. Non ne sono sicuro. Un Cosmoem. Un Reshiram. E infine una ricerca accademica. Che mi sembra si possa trovare anche in versione full art. Poi andiamo con il secondo pack. Che ho distrutto. Niente. Non ce la faccio con questo. Ok. Distrutto e dir poco. Ed abbiamo. Ed abbiamo O. Lugia. Che bello. Lugia ed O.O. In queste pose simili. Vedete? Spalla spalla tipo. I leggendari di seconda gen. Un altro Grodon. E infine. Oh. Pikachu Surf VMAX. Questo è il codice. Molto carino. E questa è la 9 su 25. Davvero davvero carina come carta. Dovrebbe esserci anche Pikachu Volo. Quindi Pikachu Surf e Pikachu Volo. Eccola qui. E vediamo cosa troviamo in queste altre due bustine. Io spero tanto nell'Umbreon. E nel Mew. Il Charizard. Non so quale sarà il più raro da pullare tra Umbreon e Charizard. Forse Charizard. E vediamo cosa troviamo. Abbiamo un Iveltal. Un Chiogre. Dovrebbe essere qui. Nel caso la carta rara. Ed abbiamo un Venusaur Prima Gen. Dai. Bellissima. Con questa olografia particolare. Dai. Abbiamo pullato Venusaur. Dai. Carina. Davvero davvero bella. E poi un'altra ricerca accademica. Tra l'altro. Io non ero mai riuscito a trovare il Venusaur. Quando ero bambino. Nella Prima Gen. Quindi sono contento di aver pullato questa carta. Davvero davvero carina. E vediamo cosa c'è nell'ultima. Codice per voi. Allora. Codice per voi. E vediamo se siamo fortunati. Oh bella. Questa non l'avevamo ancora vista. Xerneas. Davvero davvero molto carina. Un altro Iveltal. Che abbiamo visto ovunque. C'è qualcosa ragazzi. Oddio. Non so se mi sto flashando io. Ma vedo qualcosa. Ed è. Un Donphan Prime. Ecco. Questa era una carta che non so. Da bambino. Sì era rara ma non mi sconquifferava più di tanto. Ecco. Però è sempre una carta rara. E non mi posso lamentare. E infine Lunala. Eccola qui. Sliviamo anche questa. Diciamo che come pull è andato benino. Non so i valori di queste carte. Però sono carte carine. E niente. Spero che il video vi sia piaciuto. E al prossimo. Ciao.